Ben trovati e ben trovate dal vostro Andrea Cartotto. Ancora una volta nella veste di Panquiz Official Trainer. Non sapete con quale orgoglio io indossi questa maglietta perché insieme al caro amico Paolo Mugnaini, il papà di Panquiz, credo fortemente che questa app rappresenti per la scuola italiana il riferimento per la valutazione. E allora dite perché Andrea sei qui oggi? Ma perché nel 2023 il sito di Panquiz è tutto nuovo. Eccolo, sito di riferimento panquiz.com, guardiamo la barra degli indirizzi. Ricordo anche che se accediamo da computer è sufficiente un qualsiasi browser, mentre per l'App Store ed il Play Store, quindi sistemi operativi, Apple e Android, è possibile scaricare la app ufficiale. Quali novità porta in dote l'amico Paolo Mugnaini, il papà di Panquiz? Ora dobbiamo capire, Paolo, come rapporto di parentela, come ci collochiamo allora. E se tu sei il papà, io come Official Trainer, punto di domanda. Adesso ci pensiamo. Ma bando alle ciance, guardate, in alto abbiamo diversi pulsanti. Ad esempio il pulsante scuola ci mostra alcune caratteristiche base di Panquiz davvero importanti. Qui sul mio canale trovate la playlist ufficiale per imparare ad usare Panquiz e perché a scuola. Guardate bene. Perché, e questi sono alcuni dei motivi, oltre a servirci per la cosiddetta gamification, il processo con cui apprendiamo divertendoci, davvero Panquiz è strumento per effettuare una sana valutazione formativa, per consolidare le competenze o per farle acquisire. Ecco, io vi ho parlato di videocorsi, ma in realtà da Panquiz basta cliccare su Impara, guardate bene, e qui ci sono vari tutorials, vari videocorsi relativi appunto a Panquiz. Se io vado a scorrere, vedete qua per esempio c'è il collega, il professor Antonio Berardino, e voilà! Subito sotto, questo mi sa che lo riconoscete, anche qui sono incorporati i miei videocorsi ufficiali per l'utilizzo di Panquiz e ancora sotto ci sono poi quelli del professor Giorgio Figura. Insomma, Panquiz è anche una occasione per poter formarsi. A tal proposito vi ricordo che è possibile certificarsi, ottenere le certificazioni di Panquiz, suddivise su livelli, andando su Arete Formazione. Ma non è cambiato granché nell'utilizzo. Abbiamo due pulsanti chiari in alto a destra. Se io clicco su Accedi, accedo come docente o come alunno che crea un questionario Panquiz o un Panquiz Live per i suoi compagni. altrimenti con Svolgi, che avete visto prima, io posso rapidamente far lavorare i miei ragazzi, i miei destinatari. Se accediamo con account istituzionale, ad esempio un account Google Workspace for Education, clicchiamo sul tasto azzurro Accedi con Google, il browser segnalerà gli account Google che trova in memoria laddove ve ne siano e adesso ci porterà dopo qualche istante alla dashboard, alla console principale di Panquiz. Guardate quanto è bello il nuovo logo colorato. E allora, eccoci all'interno della nostra area dove possiamo creare i questionari che desideriamo. Notate, qui abbiamo dei riquadri che rappresentano i questionari che abbiamo creato per le classi. Vi rimando davvero ai miei videocorsi ufficiali per vedere come cambiare il colore, come assegnare il titolo, come gestire le impostazioni. Ricordiamoci sempre che abbiamo i live quiz, che sono i quiz interattivi da fare in sincrono, in presenza, per fare attività di icebreaking, quindi per rompere il ghiaccio, piuttosto che appunto per imparare divertendosi. Ed abbiamo questionari che rappresenta invece la verifica in digitale, quella seria, quella accurata anche dal punto di vista delle opzioni. Il cappellino in alto a destra, il tocco accademico, ci riporta ancora una volta ai videocorsi per imparare ad usare al meglio Panquiz e invece la campanella di notifica, quando siete nella pagina web di Panquiz, vi notificherà le novità. Un articolo scritto sul blog di Panquiz, ad esempio ad opera di Paolo Mugnaini, un nuovo videocorso pubblicato ed altro ancora, perché la notifica la vedrete anche quando ci saranno delle azioni che riguardano il vostro questionario. Ad esempio, verrete notificati ad ogni consegna di un questionario svolto con Panquiz. Ebbene, 2023 il sito è tutto nuovo, io vi aspetto, ve lo faccio vedere ancora una volta, guardate com'è colorato e bello il logo di Panquiz. Dal vostro Panquiz official trainer Andrea Cartotto è tutto per adesso, perché altre novità bollono in pentola e ci vedremo a breve, lo scoprirete, anche per una delle certificazioni Panquiz. Lo avete già provato? Provatelo!